Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI per incidente, 3 km di coda in diminuzione tra Empoli Est ed Empoli Ovest in direzione mare per traffico intenso, code a tratti in direzione Firenze tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandici. Sulla A11 code a tratti per traffico intenso tra Chiesina Unzanese e Pistoia in direzione Firenze. Sulla A12 un km di coda per lavori tra Carrara e Massa in direzione Livorno. Sul raccordo Siena-Bettolle per lavori restringimento di carreggiata all'altezza di Castelnuovo Berardenga chiuso in entrata e uscita lo svincolo di Colonna del Grillo in direzione Siena. Sulla statale 1 Aurelia chiuso lo svincolo la California Cecina Sud in ingresso e in uscita in direzione Grosseto. Puoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.